Uè ragazzi, però per quelli che mi dicano la chiesa, non ci sono solo i preti che fanno quelle cose con i bambini. Questa ruba gioielli nella chiesa dell'Irpinia, una suora idomicidale, il valore del bottino 80.000 euro, il ricavato trasferito su un conto estero. Che brave persone che sono, eh? Suore, preti, tutti... Pensate fosse stato uno sbarcato con i barconi, cosa avreste detto? Invece no, eh? Questa gente qua in campagna, io non ho parole ragazzi, lo capite che il marcio sta dappertutto? Anzi, dove cerca di essere più puri, poi trovi sempre quello che ti è pura.